Il 60, quando il signore si è scritto, che è dato che si è scritto, ma soprattutto dovrei scrivere la verità. Per chi non ha rispettato, che non ricordasse il senso, la verità è una ragazza un po' con autonistico, ma soprattutto contro il giornalista che si chiamava per non c'è chi, che contro la persona che aveva lei, e contro, non riusciamo a rispettare, e soprattutto il buono bene, perché io, ce l'avevi contro certi giornalisti che ti avevano dato, pensa, del borghese, del borghese, del borghese, tu non ti ricordi, eh? bene, io ne ho capito tutti tutti i nostri pazbi, i princi, tutti tutti i processi al carto al borghese, quindi, non capito, ma il Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.